Si è svolta anche quest'anno la tradizionale iniziativa denominata Puliamo il mondo, organizzata dal comune e da lega ambiente con il coinvolgimento del mondo della scuola. Iniziativa che quest'anno a Lucca ha avuto un carattere speciale. Accanto ai 164 alunni di 5 scuole del territorio infatti, a pulire le sponde del parco fluviale si sono uniti anche 60 migranti richiedenti asilo presenti nel campo di accoglienza della Croce rossa di via dettagliate. Un segnale forte della voglia di integrazione e soprattutto del bisogno di rendersi in qualche maniera utili alla comunità che li sta ospitando. Presente è anche l'assessore regionale all'immigrazione Vittorio Bugli insieme al sindaco Tambellini e agli assessori Cecchietti Sichi e Raspini. Gli alunni insieme a migranti hanno ripulito la sponda sinistra del parco fluviale del Serchio nel tratto compreso tra la terrazza Petroni e la passerella di Sant'Alessio ripulita da molte delle scritte e dei graffiti che le ricoprivano. Sì è già un'iniziativa bella di suo ormai 80 anni viene svolta e qui è un'altra cosa ancora meglio perché insomma vedere tutti questi ragazzi insieme a bambini che fanno questo volontariamente questo lavoro di pulizia in questa giornata fa capire che se insomma si parla, si ha un contatto, la città si integra con questi ragazzi che vengono da fuori la cosa funziona insomma ecco funziona per loro perché possono passare dei momenti anche restituendo diciamo quello che la città gli sta dando e funziona anche per la città perché come si vede oggi sono state fatte cose concrete. grazie a tutti. Grazie a tutti